Miau! 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 Bentornati all'appuntamento con Cronache e Bestiali, la nostra trasmissione interamente dedicata al mondo degli animali. Come in ogni puntata ci occuperemo della salute, dei nostri amici a quattro zampe, di alimentazione, di educazione ed infine conosceremo un amico in cerca di famiglia. Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici animali. Siamo come sempre in compagnia del dottor Martini per parlare di un fenomeno che purtroppo interessa anche il nostro territorio, quella delle polpette avvelenate. Quali sono i principali sintomi di avvelenamento? I sintomi di avvelenamento dipendono dal tipo di veleno che viene ingerito. Esistono due grosse categorie di veleni. I veleni irrodenticidi, i veleni ipertopi, che sono veleni che danno emorragie. Quindi la sintomatologia è legata a un problema emorragico. Le emorragie possono essere visibili o non visibili, perché possono esserci anche delle emorragie interne, però l'animale in quel caso lì avrà un'anemia importante, quindi tutti i sintomi legati all'anemia, che sono respiro affannoso, difficoltà nel camminare, mucose pallide, abbattimento, disappetenza, eccetera. Poi esiste un'altra categoria di veleni, che sono veleni che danno sintomi neurologici, che possono essere molto variabili, però tendenzialmente vanno da attacchi convulsivi, quindi l'animale perde conoscenza, può avere crisi epilettiche, convulsioni, tremori, rigidità muscolare, scialorrea, quindi bava alla bocca, oppure può iniziare a non riuscire a stare in piedi, anche se non ha un vero e proprio attacco epilettico, può anche in questo caso qui avere respiro affannoso, un battito notevolmente accelerato, però ecco la sintomatologia rientra in una tipologia circolatoria e neurologica. Cosa fare in caso di avvelenamento? Allora, cosa fare? Se riusciamo a intervenire entro un'ora dall'ingestione del veleno, la cosa migliore da fare è fare vomitare l'animale. Ci sono vari modi per fare vomitare l'animale, il più efficace metodo fai da te è usare l'acqua assigenata, molta acqua assigenata, quindi fare ingerire l'animale fino a 20 ml chilo addirittura di acqua assigenata, comunque dare tanta acqua assigenata e questo nell'arco di una ventina di minuti dovrebbe far vomitare l'animale. Se è possibile, la cosa migliore comunque è portare l'animale dal veterinario, perché il veterinario ha vari strumenti che possono indurre il vomito e quindi quello sicuramente il metodo più efficace è anche più tempestivo, perché con l'acqua assigenata ci può volere anche molto tempo prima di riuscire a indurre il vomito, quindi questo ovviamente va contro la tempestività che bisogna usare quando si è in ingestione del veleno. Se è passata più di un'ora, fare vomitare l'animale non ha senso, perché ormai il veleno è stato quasi tutto assorbito, a quel punto lì bisogna correre dal veterinario che metterà in atto, se possibile userà degli antidoti veri e propri, quindi per esempio contro i rodenticidi si utilizzerà la vitamina K, che è l'antagonista all'anticoagulante, oppure in base al tipo di veleno che viene usato nelle altre categorie possono essere utilizzati degli antidoti specifici oppure delle terapie farmacologiche che servono a supportare e a contrastare i sintomi. Come possiamo prevenire un avvelenamento? Bisognerebbe prevenire l'ingestione e per prevenire l'ingestione bisogna o stare attenti a quello che fa il nostro, soprattutto il cane, perché poi il soggetto più comune è il cane, perché ha questa capacità, questa predisposizione di mettere in bocca quello che trova, il gatto si può intossicare soprattutto accidentalmente se ingerisce animali, per esempio topi che hanno ingerito a sua volta il veleno, quindi portare l'animale al guinzaglio, stare molto attento a quello che annusa e a quello che può trovare in terra, a volte se si porta in zone particolarmente soggette a velenamento si può consigliare di utilizzare addirittura una museruola, ci sono dei proprietari che lo fanno, che hanno abituato l'animale a questo, ovviamente questo evita l'ingestione occidentale di queste cose, e poi denunciare alla polizia provinciale, che è quella che poi si prende cura di queste cose, o comunque anche ai carabinieri o alla polizia, se viene ritrovata non è scavelenata, perché una delle attività maggiori di prevenzione è proprio questa, cioè individuare le zone dove vengono messi questi veleni e fare un monitoraggio su queste zone. Bentornati allo spazio dedicato alla salute dei nostri amici a quattro zampe, siamo nuovamente in compagnia della dottoressa Chiara Caporali del Centro Dermatologico Veterinario, oggi parliamo di punture di insetti, nel caso specifico di vespe e api, ecco qua è il periodo nel quale fare maggior attenzione. Il periodo è il periodo primavera-estate, quindi quando ci sono i fiori e di conseguenza poi le api e le vespe si nutrono del nettare dei fiori. Quindi è questo il momento dell'anno in cui dobbiamo fare attenzione, soprattutto nelle zone, ovviamente nelle zone verdi e nelle zone dove sono presenti tanti fiori. Ecco ovviamente il cane che potrebbe essere anche incuriosito, insomma. Assolutamente sì, nel senso che o comunque il cane, come dico io, fa il suo, girella, annusa e nell'annusare si trova poi a incontrare un insetto che lo va a pungere. Come si manifesta? Dipende dalla zona che viene pizzicata e dipende poi dall'ipersensibilità del cane nei confronti dell'insetto. Generalmente i pizzichi di vespa in particolare e anche quelli di ape sono dei pizzichi dolorosi. Quindi l'animale può avere in primo acchito magari e può emettere un lamento, può avere a breve una sintomatologia riconducibile a vomito, proprio perché c'è una sorta di reazione allergica importante. E poi si gonfia, si gonfia nel punto in cui è stato pizzicato. Se l'animale non è allergico in genere c'è una zona dolente e gonfia. Se l'animale è allergico invece diciamo che questo edema che si determina diventa più generalizzato, per dire il cane prende il pizzico in faccia, si gonfia tutta la testa, oppure su una zampa si gonfia tutta la zampa. Quindi è variabile proprio in base al livello di ipersensibilità dell'animale. In che modo mi devo comportare? Beh, la prima cosa è sicuramente quella di andare dal proprio veterinario che provvederà a effettuare una terapia mirata a gestire sia il dolore che la reazione allergica che poi si è scatenata. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago, casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osini verde nella campagna retina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65, ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food, ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto al c-sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Ben tornati, siamo nuovamente in compagnia di Simone Grotti. Oggi ci occuperemo di due cani. Quando due cani si incontrano, cioè come comportarci e come far comportare soprattutto il nostro cane. Ecco, cosa si deve fare? Allora, l'ideale, se il cane deve sapere già passeggiare un pochettino, sarebbe l'ideale. Se manca quello, comunque sia, non per forza il cane deve interagire con tutti gli altri cani. Perché l'altro cane può essere aggressivo, può non voler interagire. Può essere un cane che non gli piace socializzare. O magari gli piace, è troppo giocherellone, il nostro accuserebbe. Quindi l'ideale è portare il cane a concentrarsi su di noi. Come dovrebbe essere una buona passeggiata in cui i cani e padroni vanno in giro, si stancano e si divertono. Ora vedremo le nostre due pitbulline, che loro vivono insieme, quindi si avvicinano per giocare. Come comportarsi, come i padroni dovrebbero comportarsi. Prego. Allora, vedete, le cani sono abbastanza concentrate sui padroni. Premiatele. Ecco, il premio resta fondamentale anche in questo caso. Nelle prime fasi sì. Perché io comunque sia devo spiegarti cosa voglio. Passate più vicine adesso. Allora, cosa hanno fatto entrambi i cani? Si sono allontanate perché erano troppo vicine fra loro, quindi non volevano un'interazione diretta e allora tendono ad allontanarsi e rispettare quelle che sono le distanze di rispetto per loro. Provate a farle camminare davanti a voi, quindi camminate tenendo il braccio avanti così, ignorate i cani e vediamo come va. Tanto camminate, ecco. Niente. Ciao, patata. Ok, ora inseriremo un altro cane di modo da innescare una reazione. Vai, incrociatevi. Avvicinatevi. Stessa situazione di prima. I cani si sono ignorati. Perché? Perché in questo schema qui i cani lo conoscono, sanno che non devono darsi attenzioni. Ripetendolo, questo schema diventerà naturale e allora anche in passeggiata tenderanno ad ignorarsi. Con qualunque cane io mi vissi trovare davanti. Con qualunque cane, sì. Logicamente, vai di nuovo, in fase di preparazione dobbiamo variarli, i cani. Chiamateli. Ecco, cosa è successo adesso? Adesso, cosa è successo? Quello che vi dicevo prima, le distanze di rispetto. Questo giro non si sono rispettate, si sono state intralciate. È mancato il tempismo nella correzione. Perché come io vedo che il cane dà attenzione, correggo e riapro. Lavorando di guinzaglio. Il cane deve conoscere, prima di arrivare a questa fase qui, per questo è importante che il cane abbia la guinzaglio, deve conoscere quella che è la comunicazione attraverso il guinzaglio. Quindi deve conoscere che se io ti correggo, non è un tiro, non è una trazione, viene fatto in un certo modo, a seconda del tipo di collare che indossa, della pettorina, se uno vuole proprio lavorare a pettorina. Però deve conoscere, soprattutto deve conoscere che dopo quella correzione c'è la riapertura. Quindi se tu, io ti correggo, tu ti riconcentri su di me e ne subito ho riaperto. Deve essere, c'è un cane, non lo devo guardare, devo guardare te. Perché in questa situazione qui arriva più positività che in una situazione normale. Però il cane, la correzione appunto che il cane dà a te conoscere deve essere perché ti sei distratto. Sempre. Non è che sullo stimolo, perché quello stimolo è un problema. No, ti sei distratto da me e quindi non va bene. Adesso i cani si sono deconcentrati dai rispettivi conduttori, allora è un problema. E dove andiamo a correggere questo? Quella distrazione. Per me, tornate indietro. Sara, tieni il cibo a vista. Allora, adesso abbiamo visto un cane che ha molta più esperienza. Come la padrona gli ha chiesto maggiore concentrazione. Il cane gliel'ha data. È andato tutto triscio tranquillo lui. L'altra, nella fase in cui c'erano le persone nel mezzo, non è partita. Era interessata, però non è partita. Perché comunque sia c'era qualcuno che si trapponeva e quindi le rendeva difficile partire. Il momento in cui sono state cane a cane ha riaccennato. La correzione, in questo caso, è arrivata con il giusto tempismo. È stata necessaria una seconda correzione, perché la prima non era troppo precisa. Dopodiché abbiamo subito riaperto il cane. È arrivata per chiesto motivo. È entrata in quelle distanze e poi adesso si sono presi di mira. Quindi nella testa loro devono risolverla. E finché non la risolveranno, ci sarà. Adesso andrebbe fatto avanti e indietro, avanti e indietro, finché la cane. Come vedi quel cane, non pensa la padrona. Ha trascorso un anno dalla riorganizzazione. Qual è il bilancio di questi primi 365 giorni? È un anno fondamentale, l'anno zero per la nostra organizzazione. Per quanto siano state confermate tutte le strutture presistenti, sono state anzi rafforzate, soprattutto nelle parti più marginali. Le stazioni che erano in sofferenza sono state rifornite di nuovo personale. Un anno importante, forse anche entusiasmante per certi versi, essersi dovuti riformare in una nuova amministrazione. Dal punto di vista operativo, un anno efficace, 8.000 controlli, 600 illeciti riscontrati. Soprattutto è aumentata la qualità della capacità di rilevazione dei problemi che esistono nella nostra provincia. L'integrazione con la struttura territoriale è ottima, è cresciuta, la dobbiamo scoprire ancora, ma attraverso il coordinamento delle sale operative del 112, la nostra organizzazione, il nostro personale in servizio in campagna non è più solo. Dal punto di vista operativo, quali sono gli elementi più importanti? Possiamo ricordare delle operazioni emblematiche che si hanno caratterizzato quest'anno dall'accertamento dei gravi fenomeni di bracconaggio ittico nel vaso del Monte D'Oglio dove è stato riscontrato l'ingresso di un'organizzazione strutturata molto forte di bracconieri ittici. Possiamo dire che è stata un'operazione che in qualche modo ha struncato questo fronte che si stava affermando anche nella nostra zona. Altri accertamenti sono il più grosso sequestro di animali maltrattati nella nostra provincia presso un agriturismo condotto in maniera piuttosto problematica. Un altro grosso accertamento di un mega abusivismo edilizio all'alfalda del Prato Magno con l'interessamento di una zona di conservazione della natura. Anche questo è stata un'operazione abbastanza complessa. Solite attività sul fronte della tutela dell'agroalimentare, olio, miele e non dimentichiamo gli incendi. È stato un anno infernale, l'ho definito, questa stagione estiva scorsa. Siamo riusciti a individuare responsabilità in sei casi di incendio. Questo è stato anche un successo, non era mai successo, perché riuscissimo a individuare così tanti casi di responsabilità. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osidi verde nella campagna retina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65, ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food, ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto al c-sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Torniamo a parlare di integratori, questa volta ci occupiamo invece del gatto. Quali sono i principali integratori? Buonasera. Allora, l'integratore principale nel gatto, diciamo, oggi come oggi, sono gli oli essenziali. Vengono usati molto in gatti che hanno pelo forte. Olio di fegato di merluzzo, olio di salmone sono i principali integratori che noi consigliamo sempre di fare dei cicli, specialmente nel gatto, nei cambi di stagione. Poi, per quanto riguarda, molto importante, sempre con gatti a pelo forte, è l'anti-herbolle. Quindi, per le palle di pelo hanno questo problema, specialmente nelle razze tipo norvegesi, Nenkun, anche un po' il persiano hanno questo problema del rigurgito delle palle di pelo. Quindi noi consigliamo anche lì di usare un anti-herbolle, che è una pasta specifica con delle proteine per la digestione, che viene fornita, nel nostro caso, da Dottor Clauder, viene fornita o a livello di pasticca o a livello proprio di pasta da aggiungere nel cibo. Per quanto riguarda poi, tendenzialmente per la patologia più, diciamo, comune nel gatto, che è la renella, oltre ovviamente, purtroppo, deve essere accompagnata da un'alimentazione secca specifica, che sono gli urinari. Noi consigliamo anche lì un integratore, appunto, o un olio di canapa, che è un olio che ha delle proprietà molto, molto a livello di infiammazione, o l'olio di fegato di merluzzo, che aiuta ad avere un sistema immunitario molto più forte, per vedere di aiutare la bile, vedere di aiutare tutto quello che è l'apparato urinario. Ecco, sicuramente la vita del gatto negli ultimi anni è cambiata, sempre più gatti, insomma, stanno all'interno della casa, invece che star fuori, insomma, nel giardino, nel verde. Ecco, come cambia anche la cura del gatto? Assolutamente sì. Purtroppo, purtroppo, questa è la tendenza negli ultimi anni. Beh, allora, nello specifico, un gatto che ha la possibilità di uscire fuori avrà un sistema immunitario molto più forte. Stando in casa, purtroppo, viene meno quello che è la sua natura da cacciatore, e quindi, nel non cacciare gli animaletti, la lucertola, non ha più quei batteri che vengono dati da questi animali, dagli intestini, dagli interiori, da quello che è. Quindi noi diciamo sempre che il gatto in casa è, purtroppo, un gatto un po' asettico. Per ovviare, purtroppo, direi, tendenzialmente sarebbe meglio poter uscire, il padrone poter portare anche il gatto fuori, appunto, proprio per fargli capire cosa è ancora la caccia. Se proprio non è possibile, anche lì, l'integratore, ci sono degli integratori specifici che si chiamano digest, che sono, appunto, dei concentrati polverizzati di intestini, interiore di animali essiccati, dove lì all'interno vengono a freddo, spremuti, e quindi non si perdono i batteri dell'animale. Ecco, quindi, il consiglio è quello di tenere in casa, per quanto è possibile, molto, molto, l'attenzione del gatto, il gioco e il movimento. Sono molto, molto importanti. E, insieme all'alimentazione, secca o umida, come preferisce il padrone, di, appunto, vedere di integrare via via con dei cicli, degli integratori, anche lì per vedere di alzare le difese immunitarie, perché nei gatti che stanno in casa, purtroppo, quello abbiamo visto, che sono molto, molto, molto basse. Ultima cosa molto importante, il gatto ha bisogno di un'assunzione di taurina molto alta. La taurina è una proteina che viene aggiunta nelle crocchette, però, purtroppo, nella composizione della crocchetta, la taurina è molto volatile e quindi, tendenzialmente, anche se il produttore ne mette molta nella fase di lavorazione, viene persa. Io consiglio molto, molto, di comprarsi della taurina in pasta e darla al gatto, specialmente quei gatti, appunto, che stanno in casa, perché non avendo, non cacciando, non facendo la sua attività normale, la taurina viene molto persa ed è molto importante per i gatti. Siamo nuovamente alla canile comunale di Arezzo, gestito dall'EMPA, per lo spazio dedicato alle dozioni. Oggi conosciamo Ginger e Mojito, chi sono? Ginger e Mojito sono due cuccioloni, avranno circa un annetto. Non si sa, magari sono fratello e sorella, sono stati trovati per strada, ovviamente senza microchip, e nessuno è venuto a ricercarli. Sono un maschio e una femmina? Sì, sono un maschio e una femmina. Sono una taglia media e sono molto affettuosi. Per loro cerchiamo un'adozione di coppia, poi, ovviamente, si danno anche separatamente, però sono cagnolini molto affettuosi, però anche un po' timorosi del mondo esterno. Ecco, vanno d'accordo con altri cani, con gatti? Vanno d'accordo con gli altri cani, con i gatti assolutamente no. E niente, per loro si cerca un'adozione magari in una zona in campagna, lontano dalla città, perché hanno paura della macchina, e ora gli stiamo insegnando ad andare al guinzaglio, proprio non erano abituati a niente. Sono ovviamente sterilizzati e castrati? La femmina è sterilizzata e il maschio no, è intero. Sono vaccinati e testati per l'esmania e filaria. Sono dati a ogni tipo di famiglia? Vanno d'accordo con i bambini? Sì, anche con i bambini vanno d'accordo, non hanno problemi, perché sono cani molto tranquilli. Semmai, appunto, si spaventano dei rumori forti, rumori improvvisi, però possono essere adatti a qualsiasi tipo di famiglia. Ovviamente, chiunque fosse interessato può rivolgersi a voi? Sì, può venire qui in canile. Per oggi è tutto, l'appuntamento va alla prossima puntata. Miauu! 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 Grazie per la visione!